E' successo tutto in pochissimi minuti. Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato ieri in uno dei magazzini della cartiera Essity in via Salvadori a Porcari. Il rogo ha interessato il luogo di stoccaggio dei prodotti finiti e ha creato un'altissima colonna di fumo nero che per ore è stata visibile da tutta la piana. Oggi è il giorno della conta dei danni, notevoli sia per il materiale perso sia alle strutture. E' quello delle analisi ambientali di Asle Arpat. Dopo un giorno intero di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Lucca con il supporto di altri comandi della Toscana, le fiamme sono spente ed è in corso la bonifica. Il comune di Porcari, in attesa di conoscere gli esiti delle analisi sul terreno e sull'aria, in via precauzionale ha tenuto chiuse le scuole e il centro anziani. Una ordinanza è stata emessa anche dai territori limitrofi di Alto Pascio e Capannoli, dove si invita a tenere porte e finestre chiuse e a lavare accuratamente gli ortaggi coltivati all'aperto.